La nomina di un nuovo vicesindaco e le critiche all'Unione Montana. Sono stati questi i punti salienti del Consiglio Comunale di Piedimolera che giovedì sera ha pure approvato il bilancio preventivo. Sono state le critiche all'Unione Montana delle Valle dell'Ossolo a tener banco, un'unione che non piace del tutto all'amministrazione di Piedimolera. Proprio due settimane fa il sindaco Alessandro Lana si era dimesso da consigliere dell'ente montano. Una scelta personale, ma ho voluto dare una scossa. A volte ci sono politiche e atteggiamenti che non condivido, ha detto Lana, ricordando che, per ora, Piedimolera resterà nell'Unione. Al suo posto entrerà il consigliere Antonio Recchia. Gian Mauro Bertoia, che è assessore in paese ma anche nell'ente montano, ha difeso l'Unione ricordando le mille difficoltà tra le quali è nata e soprattutto lamentando la suddivisione della vecchia comunità in troppe unioni. Molto critico il consigliere di minoranza Fausto Sgro. L'ente non funziona, dice Sgro. Ci sono amministratori che non lo vogliono far funzionare. L'esempio è la polizia locale, servizio al quale alcuni comuni hanno aderito e altri no. Comuni, poi, che si sono autosospesi, ma hanno accolto lo stesso gli autovelox. Un pasticcio, e intanto la polizia non funziona. Se non sbaglio, lo scopo era unificare i servizi per razionalizzare e far risparmiare i comuni. Non è partito nulla, perché il personale di certi servizi comunali non è poi passato all'Unione. Ornavasso, Villa Dossola e Creola Dossola fanno sì che funzionino solo determinate cose. Domo Dossola, invece, fa Ponzio Pilato e ne resta fuori. E poi, su certi problemi comunitari, l'Unione è assente. Riflettiamo se dobbiamo restare in questo ente o andare in una Unione più piccola ma funzionante. Il Consiglio di giovedì sera ha anche preso atto delle dimissioni da Assessore Comunale di Bruno Ferrante. Il Sindaco Lana ha affidato l'incarico di Assessore e Vice Sindaco a Nando Adami, da oltre 25 anni, in Consiglio Comunale.